Ok Andrea sei pronto? Ci sono. Fammi un botto flip. Proviamo. No 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 non hai capito devi dire certo capito? Ok. Guarda molto semplice. Certo. Così non sbagli mai. Non mi convince però secondo me devo aggiungere qualcosa. Quindi per esempio prendo questo e mentre lo risolvo ti faccio. Certo vedi c'è un'altra cosa. Ok va bene ok. Stessa cosa con il dado. Lancia il dado. Cinque. Ti ho detto che devi dire certo. Anche qua. Quindi se vuoi il cinque devi dire cinque. Certo. Così capito semplicissimo. Però una possibilità su sei. Non mi piace. Prova con le carte. Da sotto. Ok. Otto di fiori. Quattro di cuori. King di picche. Sei di picche. Prendi una carta a caso dentro al mazzo. Ok. Sei di quadri. Ok. Sei di quadri è tra la regina di quadri e il sei di cuori. Quattro certo. Regolare.